Tante in tanti, siamo associazioni, partiti, progressisti, Siamo i centri antiviolenza, siamo i ragazzi di oggi, oggi siamo in tutte le piazze con i centri antiviolenza, a dire no a questo DDL scellerato e vergognoso, vergognoso, sempre tesa, sempre tesa, un pugno allo stomaco per i centri antiviolenza, per le donne che tutti i giorni accolgono le donne che subiscono violenza, E' questo il governo del cambiamento, o il governo che ci riporta indietro, I tempi delle streghe, Alleluia 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 Alleluia